giudice i vedi controllo giudice 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 scegli giudice 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 선물 открыter la ponte salire puoi vicini rio Sì, non c'è un tiro e non c'è un tiro in contra Con calma, inseris i bracci, ben, stringi, qua molto più profondo E va, no, mettiti cos'è, aspetta, no, ingrati, os, va, stringi, fatta, sì Sì, sì, poi andari anche sopra, in un altro momento Qua è importante, bracci, non si riuscì, ma ancora non stringi Qui fanno, è ridrissa questa braccia Sì, è ridrissa, è ridrissa spalla, più molto profondo Bene, se è attacato, a te sei con gomito spingi mia nuca No, 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 io sto di te, sì Sì Bene, spingi nuca con gomito Vai ancora Nuca con gomito, piega il mio colo, con questo gomito Va così No, piego via, così Così do, chiude No, qui Eh, ok E lì, io ridrissa e tu invece, io ridrissa e tu piega Così, adesso lo chiudi Capito? È più, però ho notato che più dentro è braccio Più difficile poi mettere gomito sotto da Qui vediamo Andate pronto Andate pronto Vai Ho Ho Lui si difende, vedi Lo vado qui Senta, provo a mettere più dentro possibile braccio Questo Sì Dici che è questa Poi dopo più dentro, eh Sì, sì, sì Più difficile Poi Chiudere Poi Funziona Questa qui Questa, vedi Non chodis Questa, vedi Avicina Avicina Vedi Avicina Non stigge della Ma qui Stigge sotto di te Non stigge vediamo che potevo ancora no così va così va questa cosa funziona qua serve agganchiare gamba funziona non tanto dolore stavo come con il mento respirando tutti i baby non tanto dolore qui oh Buongiorno. 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 su avanti no 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 tu devi piegare piega e mi porti oh vieni vieni non va bene il lo il ti no sono come l' 64 . . . . . Ok BAM 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 Vai subito, subito Fuori, gamba Fuori BAM Sinon va Gancio BAM Sempre fuori Io posso sparare anche dentro Fai con lo che hai imparato Fuori 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 Non va Non va Grazie a tutti.